Ciao, buonasera a tutti, benvenuti. È domenica 5 febbraio, sono alle 23 e come sempre analisi live dei mercati Forex, indici e commodity per quanto riguarda la settimana del 6 febbraio 2017. Per chi non mi conosce, sono Paolo Pisino, sono il fondatore del sito iltradingpertutti.com. Partiamo come sempre con il disclaimer, gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Veniamo al calendario economico, notizie importanti per la settimana, all'una e mezza abbiamo le vendite del dettaglio per quanto riguarda l'Australia, quindi il dollaro australiano e domani nel primo pomeriggio alle 15 parla il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, per il resto l'unedì come sempre è abbastanza povero di news importanti salvo qualche Twitter magari di Trump. Martedì abbiamo Market Mover, l'annuncio del tasso di interesse per quanto riguarda l'Australiano, quindi staremo a vedere se ci sarà questo continuo apprezzamento da parte del dollaro australiano su il dollaro americano, ormai stiamo raggiungendo i livelli dell'ottobre del 2016, il prossimo sarà quello dell'aprile. Avremo poi nel tardo pomeriggio i nuovi lavori dell'OJOLS per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America e poi il discorso del presidente della Buba, quindi della Banca Centrale tedesca, Weidman, non so mai come si pronuncia. Per quanto riguarda la giornata invece di mercoledì, scorte di petrolio greggio come sempre, appuntamento settimanale per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America e poi l'annuncio del tasso di interesse per la Nuova Zelanda. Staremo a vedere anche qui se ci sarà la volontà di far scendere il dollaro neozelandese sul dollaro americano, cosa che a quanto pare sembra abbastanza difficile da riuscire perché nonostante anche le dichiarazioni da parte del governatore della Banca Centrale neozelandese, Weller, anche in questo caso non so se si pronuncia in questa maniera, il dollaro neozelandese continua ad apprezzarsi senza sosta. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, ancora il discorso del governatore della Banca Centrale neozelandese e poi anche il discorso del governatore della Banca Centrale invece australiana. Poi concludiamo la giornata di giovedì con il discorso di un membro della FOM, in questo caso Bullard, che normalmente muove parecchio il mercato e poi il discorso della Banca Centrale inglese, Carney. Sicuramente ci sarà un discorso incentrato molto probabilmente su il discorso chiaramente sulla Brexit. Giornata di venerdì, per quanto riguarda il mattino, saldo della bilancia commerciale cinese, produzione manufatturiera alle 10 e mezza per quanto riguarda la Gran Bretagna, quindi movimenti probabili sulla sterlina. Ho ancora discorso del Presidente della Bundesbank Weidman e poi alle 14.30 variazioni nel livello di occupazione per quanto riguarda il Canada, dopodiché la settimana finisce senza, c'è la giornata di venerdì, finisce senza ulteriori e quantomeno dovrebbero esserci senza ulteriori news. Veniamo adesso alla nostra analisi, come sempre partiamo da Eurodollaro, come sempre da ormai 15 giorni l'analisi non è più soltanto tecnica ma anche basata sull'analisi ciclica, quindi cercherò di poter dare dei riferimenti anche ciclici, chiaramente per il mercato settimanale. Partiamo da Eurodollaro, intanto guardo se ci sono domande e approfitto e saluto chi già mi ha salutato in chat. Allora Eurodollaro, andiamo a tracciare i livelli di supporto e resistenza, come ormai da marzo del 2015 l'euro sul dollaro chiaramente è una fase di lateralità e ormai tutti quanti l'abbiamo notata, anche se riducendo molto lo zoom vediamo che in realtà siamo in una lateralità proveniente da un trend a ribasso che comunque era iniziato a maggio del 2014. In questo momento siamo nella parte bassa di questo rettangolo di lateralità e ciclicamente parlando siamo in una fase in cui dovremmo andare a cercare o quantomeno aspettarci operazioni a rialzo. Vediamo quello che abbiamo preso qui in esame, è un ciclo a 279 giorni. Andiamo comunque a tracciare i livelli di resistenza più vicini possibile al prezzo per vedere se riusciamo a determinare dei livelli di ingresso a mercato. Io tendenzialmente escludo questo spike e utilizzo questa trendline per darmi un'indicazione operativa. Se andiamo a sistemare invece il ciclo in modo più preciso, andiamo ad abbassarlo, lo vediamo in questa maniera così abbiamo anche le indicazioni di quelli che dovrebbero essere proprio movimenti del ciclo. Ora siamo sicuramente in una fase a rialzo, io andrei a considerare il livello di 108 e 06, quindi vicinissimo numero tondo per gli amanti del numero tondo, il livello giusto per andare a cercare operazioni a rialzo, fermo il restato e fare molta attenzione perché il 15, vero che è un po' lontano, dovremmo comunque aspettarci una fase di debolezza da parte dell'euro, anche se crede che comunque ci sarà ancora la probabilità di andare a vedere assolutamente i livelli di 106 e 06, scusatemi, di 110 e 66. Per quanto riguarda invece operazioni ribassiste, le potremmo andare a cercare sia con la tenuta di 108 e 06, quindi lo stesso livello che utilizziamo per cercare poi operazioni a rialzo, lo potremmo utilizzare per cercare operazioni a ribasso, oppure la rottura poi del livello di supporto di 105 e 09, che potrebbe dare il via a una fase di ribasso importante dell'euro. Abbiamo avuto la rottura della trendline, è evidente che il mercato è in una fase di lateralità pressoché perfetta e stiamo un pochettino a vedere se avrà la forza di spingere ancora verso l'alto oppure no, è evidente anche questa trendline rialzista che sta accompagnando in maniera precisa, se escludiamo per un attimo le ombre, andiamo a prendere più che altro i corpi delle candele principali, lo si vede bene che sta accompagnando molto bene l'euro a rialzo su il dollaro. Andiamo a vedere il GBP USD, in questo caso il cable dal punto di vista ciclico, io ho individuato dei cicli da, sono scomparsi, andiamo a rimetterli, è impazzito, vi chiedo scusa, allora, ok sono cicli a mio avviso da 81 giorni, se andiamo anche a rendere un po' più precisi, si vede quanto è preciso il cable nel rispettare il tipico movimento del ciclico AM. Andiamo comunque a tracciare i livelli come sempre di supporto e resistenza per poter evidenziare e determinare eventuali possibilità di ingresso al mercato e mi raccomando sempre a guardare il calendario economico per evitare di trovarsi in brutte sorprese. È iniziata una fase di lateralità, il 6 ottobre 2016 sta continuando, abbiamo già avuto due punti di contatto inferiori, in realtà possiamo considerare anche questo di livello, quindi andare a evidenziare anche i punti di contatto superiori, in questo caso su un time frame giornaliero siamo in una fase a rialzo, abbastanza evidente, fase rialzo che potrebbe concludersi intorno al 23 febbraio, ma se andiamo appunto a rendere più precisa la configurazione ciclica, anche da un punto di vista dell'ampiezza lo possiamo andare a regolare, chiaramente ci regoliamo sul ciclo precedente a quello in atto, forse possiamo anche spostarlo un pelino più a destra, ok, ma vediamo che siamo in una fase adesso di debolezza che in realtà è diventata una piccola fase di lateralità. Io andrei a cercare, andiamo a tracciare intanto i livelli di supporto e resistenza, siamo un po' lontani, proviamo andare indietro, chiaramente non vediamo nulla, provo a scendere un secondo, vediamo se almeno sul 4 ore, ok, sul 4 ore riusciamo a identificare un livello da poter utilizzare per un ingresso a mercato. Allora direi posizione al ribasso, innanzitutto posizione al ribasso è un po' difficile perché abbiamo un sacco di ombre, lo si vede qui, un sacco di candina, in realtà anche questa di 213 pip è una fase di lateralità abbastanza evidente. Comunque direi posizione al ribasso, andrei a considerare tenendo buono il livello di resistenza di 1,2512, in questo momento ci troviamo leggermente al di sotto di tale livello e invece per un'entrata rialzo ovviamente la rottura del livello sempre di 1,2512, in realtà questo 2512 appunto lo possiamo considerare per un ribasso che potremmo comunque andare a incrementare poi con la rottura di 1,2315 e tale rottura però non dovrebbe verificarsi prima, teoricamente a un punto di vista ciclico, del 13 febbraio 2017, quindi verso la fine di questa settimana, all'inizio della settimana prossima. Andiamo a tracciare, mi sono dimenticato sull'eurodoll, andiamo a rivedere, la futura linea di demarcazione che è lo strumento che utilizzo per entrare al mercato sostanzialmente è un ottavo di questo ciclo a 82 giorni con una formuletta sostanzialmente mi dà il ciclo a 10 giorni traslato in avanti e questo è il mio segnale di ingresso, vedete che ha generato un segnale long proprio all'inizio del ciclo e anche un segnale short che chiaramente non vado a prendere su GBPUSD perché siamo un po' troppo vicini a quello che è la fine di questa piccola fase di ribasso tenendo anche conto che siamo nella prima metà del ciclo e quindi dovremmo andare a cercare posizioni rialziste, tanto più essendo in una fase di assoluta lateralità è evidente che ci sta ad andare a cercare ancora posizioni rialziste, dovrò valutare un'eventuale rottura del ciclo a 10 giorni oppure del ciclo a 20 giorni, secondo di quello che sostanzialmente sarà poi la dinamica del prezzo, non prima del 13 di febbraio del 2017. Andiamo a vedere gli USD Yen, intanto sto allungando l'occhio su UDUSD che come purtroppo immaginavo ha ripreso a macinare PIP al rialzo quindi mi aspetto un nuovo massimo nella giornata di domani. Gli USD Yen da un punto di vista ciclico 157 giorni sono i cicli che ho individuato, è un po' difficile ciclicamente perché è tanto orizzontale, ha dei momenti chiaramente di trend però tendenzialmente passa la maggior parte del suo tempo in lateralità quindi faccio un po' di fatica nell'identificare dei cicli ben evidenti. Comunque partiamo prima dalla nostra analisi tecnica, tecnicamente rottura di questa trendline al ribasso ha dato inizio quello che dovrebbe essere una fase di rialzo, fase di rialzo che ha seguito perfettamente il ciclo e poi ha anche dato con la rottura di questa trendline rialzista la conferma, qui ce n'è una un pochettino più lunga, di una probabilità probabile, inversione di prezzo che potrebbe essere un ritracciamento oppure proprio una vera e propria inversione di prezzo. Anche USD Yen sul daily è evidente essere in lateralità perché possiamo tranquillamente andare a tracciare un rettangolo, quindi un'area di lateralità, la possiamo mettere sia in questo modo che in questo modo, a me piace più utilizzare questo livello di resistenza perché è stato colpito sicuramente un numero maggiore di volte, il prezzo non è riuscito questa volta ad andare a ritestare i livelli massimi, ci possiamo tracciare una trendline anche in questo modo, perfetta, trendline che consideriamo valida perché è stata colpita almeno tre volte dal prezzo quindi sicuramente molto valida. Supporto e resistenza per identificare, togliamo un po' di cose se non si capisce più nulla, per andare a identificare eventuali segnali per poter entrare, cioè livelli per poter entrare a mercato. Direi senza ombra di dubbio, allora operazioni ribassiste, quindi in questo caso a favore di ciclo, andate a cercare con la rottura di 110 e 27, come sempre rottura non intendo che lì bisogna poter entrare short, dovrete avere dei segnali ovviamente vostri operativi per poter entrare a ribasso, quindi il pattern a candela oppure altri strumenti che utilizzate per entrare. Intanto è Edoardo che ti do il benvenuto e mi chiede ragazzi perché se vi c'è per la prima volta forse avete qualche guida utile, Edoardo non si è qui per chiedere agli altri che cosa fare nel trading, essendo questa la mia serata, la mia analisi, eventualmente chiedi a me se è possibile avere qualche guida utile per fare il trading. Tanto ti consiglio di non prendere gli ebook gratuiti perché non impari a fare trading in quel modo, ok? Edoardo? Allora andiamo a tracciare anche... Andiamo a tracciare la nostra linea, la futura linea di demarcazione che vedete non è molto molto chiara, assolutamente non è molto chiara, perché è stata attraversata più e più volte, ovviamente noi andiamo a prendere solo quelli che sono gli attraversamenti dall'alto verso il basso, ok? Dall'alto verso il basso vuol dire che in questo momento abbiamo avuto generato sicuramente un segnale al ribasso, abbiamo avuto anche già la rottura, la rottura, ecco la rottura, guardate che bello, della futura linea di demarcazione del ciclo 39 giorni, quindi di un quarto del ciclo principale a 157, guardate come è stata tempestiva a segnalare il trend al ribasso, noi in realtà l'abbiamo preso, abbiamo chiuso il break even, intanto per cambiare, abbiamo preso un break even quindi 1,0, quindi ci sta andare a cercare operazione al ribasso, operazione al ribasso che andrei a valutare fino... Andiamo se riusciamo a regolarlo un po' meglio, riduciamo lo zoom, andrei a valutare assolutamente fino alle 12 di febbraio, quindi ancora in questa settimana sarà possibile cercare operazione rialzista, dopodiché ci potremmo aspettare anche un rimbalzo, ovvio che il rimbalzo si potrebbe verificare anche prima di tale data, qualora il livello di supporto di 110 e 27 tenesse, cosa che potrebbe accadere perché comunque siamo in una fase di assoluta lateralità. Operazioni invece rialziste per quanto riguarda USDN le andrei poi a valutare solo con la rottura di 115 e 33. Nuzino USD, anche qui vediamo che ciclicamente è molto regolare, anche se in maniera un po' è quasi impercettibile, eravamo in una fase di ribasso, qui ci possiamo assolutamente individuare un canale ribassista, non è proprio perfetto, 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 ma assolutamente ci siamo, grossomodo, anche se la rottura, lo vediamo qui, di questo livello di resistenza di 0,73 e 23, scusatemi ma non riesco neanche a vedere il monitor, mercoledì finalmente vado dall'oculista per vedere se probabilmente mi cambieranno gli occhiali, magari non mi interessa però così partecipare è bello come si dice. Dicevo la rottura di questa trenaria ribassista unita alla rottura di questo livello di resistenza potrebbe interrompere questo canale ribassista e sostanzialmente andare a, togliamo un po' di cose che sennò non si riesce a capire, andare a dare continuità a questo trend a rialzo, perché questo qui potrebbe essere tranquillamente, questa potrebbe essere tranquillamente una fase di ribasso di questo in realtà trend maggiore. Per gli amanti di Fibonacci, anche se Fibonacci, allora, il prezzo è tenuto un 50%, anche se dicevo che Fibonacci in realtà, qui giusto un piccolo esempio, lo andiamo a tracciare così, sicuramente è tracciato a caso perché prendiamo il limite inferiore del mio monitor, il limite superiore destro del mio monitor, quindi non l'ho tracciato su un grafico, guardate il prezzo quante volte ha battuto su Fibonacci, quindi cosa vuol dire? che sostanzialmente è casuale, almeno rimane una sorta di mia idea. Da un punto di vista dei livelli di prezzo, andiamo a rimettere la ciclica che reputo invece alquanto precisa perché il mercato è evidente essere ciclico, direi allora 0,7323, come vi dicevo un buon livello per cercare operazione a rialzo su Zilandollaro anche se siamo ancora ciclicamente in una fase di ribasso, quindi chiaramente poi lo vado a vedere nei cicli superiori, così come potrete credo avere visto nei vari tutorial che si trovano su internet, sulla cicla che ha incluso i miei ovviamente, che i cicli superiori devono essere chiaramente in tendenza, o meglio i cicli inferiori devono essere in tendenza con i cicli superiori. Quindi direi che in questo caso su il time frame invece deli ci potremmo aspettare una continuazione, o quantomeno un'inversione del trend, quindi andare a cercare operazioni ribassiste quando, qualora il prezzo vada a rompere da un punto di vista dei livelli 0,72 e 40, anche in questo caso che cosa avremmo? Andiamo a rendere più preciso, ok? Andare a rendere un pochettino più preciso il ciclo, guardate anche in questo caso come è stato preciso, forse qui siamo però in presenza di un ciclo a tre tempi, esatto, però diventa sicuramente meglio utilizzare il sinusoide perché quando non c'è un movimento preciso preciso il sinusoide ci dà l'idea di come ci dovremmo comportare. Io cercherei posizioni prevalentemente ribassiste da un punto di vista ciclico fino grosso modo all'11-12 febbraio, chiaramente dopo però la rottura di 0,72 e 40 in questo caso mi darebbe sicuramente anche un segnale di ribasso la rottura del ciclo traslato a quattro giorni che quindi è un ottavo del ciclo a 35. Mi chiede Francesco se c'è ancora la correlazione tra gold e USD, magari lo andiamo a vedere poi sulla piattaforma TradingView che potete trovare anche su investing.com così diamo un'occhiata, ok? Opero un po' su tutto Edoardo, dipende un po' da quello che mi dà il mercato, sì tendenzialmente sono nato comunque con un trader sul Forex ed è quello che mi piace un po' di più. Allora EuroGBP, EuroGBP è evidente anche se in questo momento il Forex è davvero difficilissimo da gestire. Allora innanzitutto EuroGBP io ho un'operazione dentro che non mi piace per niente, non mi piace perché da un punto di vista ciclico siamo secondo me in una fase in cui dovremmo aspettarci una continuazione al ribasso da parte di EuroGBP. Ovvio qua ci sono altri fattori che vanno a influire di nulla Francesco. Magari ricordo perché sono capace di dimenticarmi e mi sono perso. Sicuramente influiscono tantissimo quelli che sono gli avvenimenti in questo momento americani per via a quanto pare della guerra che Trump sta un po' avviando nei confronti di tutti gli stati del mondo. A questo punto se lo sta un pochettino prendendo con tutti o quantomeno tutti vogliono andare a fare e a rompere le scatole a casa sua. Ricordiamoci sempre che quantomeno è stato eletto dal popolo e che quindi si lasci lavorare e poi magari dopo si vada a eventualmente sindacare sul suo operato. No, io non essendo lamentare, non avrendo nozione di macroeconomia, mi baso sul prezzo. Teni conto però che il prezzo racchiude anche tutti gli eventi macroeconomici. Quindi a mio avviso è più che sufficiente per poter fare un'analisi previsionale. Euro GBP da un punto di vista ciclico sicuramente in una fase di ribasso, su questo non ci piove. Da un punto di vista tecnico come livelli andrei a cercare operazione a rialzo con 0,86 e 31, chiaramente la rottura di 0,86 e 31, invece operazione a ribasso e andrei a valutare sia con la tenuta e quindi la rottura di 0,86 e 30 che vedete è sostanzialmente il livello su cui ci troviamo adesso, la fine della fiera più o meno, quindi 0,86 e 30 e poi eventualmente una rottura ancora più efficace con la rottura di 0,84 e 66, però qui siamo chiaramente poi un po' più lontani nel tempo. Andiamo a rendere un po' più preciso da un punto di vista ciclico Euro GBP, in realtà potremmo aspettarci un rialzo fino alla giornata di domani tranquillamente, perché comunque abbiamo il 5 e 6 di febbraio questo picco ciclico, quindi in realtà potrebbe esserci ancora una rottura, ovvio deve tenere questo livello di resistenza. Infatti così come ho detto ai miei ragazzi, questa operazione qua la chiudiamo assolutamente, ben 3 pip di guadagno, quindi super guadagno perché non mi piace nel mondo più assoluto come è posizionato in questo momento, in realtà dobbiamo valutare anche questa cosa, quindi probabilmente la terrò, il trend è assolutamente al rialzo, di ribasso non c'è assolutamente nulla, un trend ribassista lo avremmo solo secondo me dopo la rottura del livello di supporto di 0,84 e 66 che andrebbe a confermare sostanzialmente, vedete questo primo tentativo di ribasso che poi a mio avviso è stato solo un ritracciamento. Certo che ciclicamente parlando, vedete siamo nella fase di ribasso, però cosa potrebbe fare tranquillamente il prezzo? Essendo comunque in laterale ci potremmo aspettare, in laterale scusatevi non tendo al rialzo, potremmo aspettarci magari un po' di lateralità per poi ripartire al rialzo quando poi nel grosso modo intorno, addirittura verso la fine del mese, quindi qua in realtà il ciclo, la parte di chiusura ciclica potrebbe durare molto e darci una sorta di lateralità, oppure lateralizzare, anziché lateralizzare come è successo praticamente vedete qui, fase di ribasso è completamente ignorata, quindi è continuata la fase rialzista nonostante il prezzo si trovasse in una fase prettamente invece di ribasso, massima attenzione comunque su Euro GBP. Andiamo a vedere il DAX, ah scusatemi su Euro GBP, la linea di demarcazione in questo caso è un 1 ottavo del ciclo da 72 giorni evidenziato, la linea di demarcazione è un ciclo a 9 giorni, vedete comunque è stato rotto verso l'alto, noi siamo entrati bene, solo che purtroppo il prezzo è poi iniziato a lateralizzare, ha lateralizzato per praticamente 3 giorni andando su e giù e ci ha fregato da un punto di vista temporale, perché abbiamo lasciato 3 giorni al mercato e quindi non ci ha dato la possibilità di raccogliere quello che probabilmente avremmo potuto raccogliere su Euro GBP. Andiamo a vedere il ciclo a 4 giorni, anche il ciclo a un quarto del ciclo principale, in questo caso si parla di un ciclo a 18 giorni, vedete che il prezzo anche in questo caso, tra l'altro ha appena rotto, ha chiuso venerdì al di sopra del ciclo a 18 giorni andando a generare comunque un segnale di ingresso a rialzo, ovvio questa resistenza così come tenevo sta tenendo ed è 0,86 e 38, staremo un po' a vedere che cosa farà magari questa notte comunque nella giornata di domani. Confido comunque nel trend che è assolutamente rialzista e ricordiamoci che se siamo in un trend a rialzo, il ciclo è ribasso, siamo vicini, comunque in questo caso a una trend line non vado a prendere posizione ribassista ovviamente nel modo più assoluto. Andiamo a vedere il DAX, il DAX risponde davvero molto bene da un punto di vista ciclico, io ho evidenziato e identificato cicli da 95 giorni, livelli di supporto e resistenza come al solito. Ok, la nostra trend line, per chi mi segue eventualmente per la prima volta nella diretta di questa sera o per chi vedrà per la prima volta magari il video nei giorni da domani in poi, io opero a grafico completamente pulito, per me non serve utilizzare gli indicatori, l'unica cosa che aggiungo è l'analisi ciclica, l'analisi ciclica che lavora sia sulla piattaforma gratuita di TradingView, che è una piattaforma che utilizzo specifica per la ciclica, che con questo tool per invece la MetaTrader che evidenzia i cicli di ARS direttamente sulla piattaforma, è il mio trading quello dell'analisi ciclica. Ritorniamo comunque alla sinusoide perché mi piace parecchio, anche se lo vediamo che la formazione M sicuramente risponde molto bene sul DAX, è un ciclo, sono tutti cicli a tre tempi, vedete qui come è stato preciso il ciclo a tre tempi, se lo andiamo addirittura a abbassare diventa quasi, rasente quasi l'imbarazzo, la precisione, qui in realtà abbiamo avuto un'accelerazione, un'accelerazione brutta perché poi il prezzo è entrato in lateralità e se è entrato in lateralità è difficile da utilizzare con una configurazione ad M, allora la sinusoide sicuramente ci viene in grosso aiuto perché diventa vero o meno precisa, però ci dà più una visione chiara di dove ci troviamo. Anche in questo caso è evidente il trend essere in una fase di rialzo, quindi massima attenzione nel cercare operazione. Possiamo sicuramente sul daily andare a tracciare una resistenza perché il prezzo è di sotto di essa qui, quindi direi per quanto riguarda il DAX ciclicamente parlando siamo sicuramente in una fase di ribasso, lo vediamo, siamo anche lontani da questa trendline principale, non troppo da questa. Allora potremmo cercare con convinzione, a mio avviso operazioni ribassiste con la rottura di 11.412, sono completamente cieco, e operazioni invece a rialzo le andrei a valutare dapprima con la rottura di 11.678.4 e le potremmo andare a valutare con la rottura di 11.886.9. Parlando, siamo in una fase di ribasso, ripeto, il trend principale secondo me è questa trendline, il prezzo è molto lontano, quindi in caso di rottura di 11.412 lo short ci starebbe alla grande e avremo anche la conferma della rottura sia del ciclo a 11 giorni già avvenuta che del ciclo a 23 giorni, quindi del ciclo a un ottavo e un quarto di quello principale. Short che potremmo valutare fino al 5 di marzo di rottura, quindi si parla dell'inizio, proprio del vero e proprio inizio della fase ribassista del cable, in realtà se prendiamo invece la precisione, però in questo caso utilizziamo sicuramente la futura linea di marcazione, la prima fase di ribasso dovrebbe terminare tra il 3 e il 5, quindi tra il 3 e domani, sostanzialmente oggi e domani, in questo caso iniziare una prima fase di rialzo che sarebbe anche confermata dal trend, però sembra essere entrato in una fase di lateralità dopo la grande esplosione rialzista che ha avuto e che è iniziata il 2 di dicembre, quindi ha avuto questa grande accelerazione rialzista per poi entrare in una fase di lateralità che è durata parecchia, perché è durata dal 2 di febbraio fino al 25, scusatemi, è iniziata il 30 di dicembre, è terminata i primi dei giorni di febbraio, quindi è durata davvero molto e in questo momento ha ritornato in una sorta di fase di lateralità, quindi starei davvero molto attento al DAX, a mio avviso è un po' più bello da lavorare in 3 day anziché in daily. Andiamo a vedere adesso il gold, anche il gold risponde molto bene da un punto di vista ciclico, livelli di supporto e resistenza come al solito, ok, perfetto, allora, questa trend sicuramente non è valida perché ha due punti, proviamo a guardare su 4 ore, su 4 ore la possiamo invece considerare già un po' lunga, la possiamo già considerare valida perché ha due tocchi, quindi è stata colpita due volte dal prezzo, quindi è stata validata dal prezzo questa trend line, è evidente, siamo in una fase di ribasso, non ci piove, guardate anche in questo caso la precisione della ciclica, quindi come il prezzo sta seguendo molto bene quella che sono i movimenti ciclici, cicli da 146 giorni, vedete che ho evidenziato, da un punto di vista del prezzo direi che i livelli buoni da attenzionare sono per quanto riguarda l'operazione a ribasso, la rottura di 1193.63, ovviamente è news permettendo e questo è importante, e l'operazione a rialzo con la rottura di 1234.51. Ciclicamente parlando andiamo a rendere un po' più preciso, tutti i cicli sicuramente in questo caso da due tempi, molto precisi, tra l'altro qui abbiamo avuto il ciclo che era a rialzo, adesso io l'ho reso orizzontale perché in realtà ha ritracciato, quindi è ritornato in una sorta di lateralità, quindi non lo tengo a rialzo perché non avrebbe più assolutamente congruenza con quello che è il tempo attuale. Quindi in questo momento vedete che dovremmo andare a ricerca ancora di posizioni a mio avviso a ribasso fino almeno al 18 di febbraio, tra l'altro avremmo anche la rottura di questa trendline che quindi ci darebbe una conferma da un punto di vista tecnico e anche avremmo probabilmente o avremo molto probabilmente la rottura di tutti i due i cicli, del ciclo a 36 giorni e del ciclo a 18 giorni traslati indicativamente con la rottura del livello di 1190,09. Sul tuo grafico il gold ti porta uno short importante come, non è un rintracciamento ma è un ritracciamento Francesco da 1227, io 1227, poi dipende un po' dal proprio broker probabilmente, ho capito che ve lo dici questo qui, ma ritraccio importante è da vedere anche perché per me più che un ritracciamento si parla di un gran bel trend al ribasso, quindi il limite potrebbe iniziare la continuazione probabilmente ribassista. Comunque andiamo a vedere adesso. Il Mib 30, il Mib 30 dopo lo andiamo, il Mib 30 non ce l'ho mica, io ho segnato qua sulla mia piattaforma, dovrei andarlo a cercare, dopo magari lo cerchiamo se facciamo in tempo ma non voglio allungarmi troppo come in tempistica per quello, magari se me lo chiedi tramite il blog faccio poi l'analisi e la pubblico ben volentieri Lucio, comunque se riusciamo diamo un'occhiata. Quindi per quanto riguarda il gold, long 1234,51 a sfavore di ciclo e short e 1193.63 come ribelli a favore di ciclo e short che possiamo valutare indicativamente fino al 18 di febbraio. Andiamo a vedere il crude oil, anche il crude oil è un altro di quegli strumenti che veramente da un punto di vista ciclico è pressoché perfetto, risponde in maniera perfetta all'analisi ciclica. Vedete che siamo sicuramente in un trend a rialzo ma in realtà il prezzo si sta andando a incuneare, in realtà potrebbe averlo già anche rotto il cuneo, però se ci mettiamo in questa maniera proviamo a scendere sul 4 ore, a vedere se riusciamo a renderla un po' più precisa, però mi sposta anche sul 4 non è che sia al top. Ok, però è evidente che anche sul daily il prezzo si sta andando a incuneare. Uso la trend line così rimane blu. Vedete qua, anzi forse è più un triangolo che un cuneo. Ovvio, siamo in un trend a rialzo ciclicamente, siamo però vedete arrivati in quella che potrebbe essere la fine della parte rialzista del ciclo. Forse il Nib30 ce l'ho sul trading view, non sono sicuro, avevo già fatto l'analisi, adesso poi andiamo a vedere. Qui i livelli da poter tracciare, scusate se riesco a trovare qualche livello, ecco lo possiamo anche mettere qui, l'unico che vedo sul daily è questo qui. Allora, ho ancora un po' di problemi. Perfetto. Ok, allora, eccoci qua. Allora, per quanto riguarda il crudone, posizione a rialzo, io li andrei a valutare con la rottura di 55,01. Se non riesco a centrare il foglio che serve. E posizione a ribasso, invece li andrei a valutare con la rottura di 52,12. Ovvio, lo si vede benissimo, siamo in assoluta lateralità in questo momento, lateralità che è iniziata il dicembre, anzi è iniziata a mio avviso il, ma sì, no, direi qua. Il 21 di dicembre ha avuto una fuoriuscita da questo rettangolo di lateralità per due giorni il 10 lungi di gennaio, poi è rientrato nuovamente all'interno. In questo caso l'analisi ciclica è fenomenale, in una fase di lateralità o di cuneo o di triangolo che sia, qui è un triangolo, secondo me ha due lati comunque obliqui, quindi per me rimane un triangolo, quindi ci dice quale potrebbe essere la parte più probabile di rottura, a mio avviso, qua è la ribassista, a meno che non continui chiaramente a lateralizzare, quindi questo è tutto da vedere, guardate come risponde bene ciclicamente parlando, se io vado ad allargarlo, è perfetto la configurazione ciclica che vediamo, in questo caso i cicli diventano da 87 giorni, è un segnale a ribasso, il prezzo, cioè l'analisi ciclica ce lo va a generare sostanzialmente con la rottura appunto del ciclo traslato a 10 giorni che vediamo qui e quindi mi darebbe conferma di uno shot con la rottura di 51 e 90, allora, 30 non è l'indice spagnolo, no, 100 scusami, sì, io gli indici non li faccio, figurati che praticamente manco li conosco, allora il MIB lo possiamo fare alla velocità della luce, perché ciclicamente è perfetto, quindi facciamo una cosa in più, lo vediamo così, vado a tracciare, come capirete io da un punto di vista proprio degli indici, non tradandoli neanche so come si chiamano, non sono l'espertone di tutto assolutamente, allora, avevo dato settimana scorsa lo short per quanto riguarda il nostro indice, non so se qualcuno se lo ricorda, avevo dato lo short perché avevo messo in realtà il ciclo così, lo avevo dato qua, quindi il 25 di dicembre, forse addirittura domenica scorsa avevo dato posizione a ribasso perché era evidente con tecnicamente questi due massimi, con tecnicamente la rottura di questa trendline che il prezzo, c'è evidente, ciclicamente parlando ovviamente il prezzo sarebbe sceso, infatti così è stato, c'era stato un po' di dietribui perché c'erano tutti i longhisti, ma sì, gli espertoni è pieno assolutamente, e dicevo, era dato long da tutti, come si chiama tutti, da molti trader, era nata anche una simpatica discussione, io continuavo a vedere uno short, short che poi in realtà si è venuto a verificare, certo che il MIB è talmente in questo momento condizionato da tutte le varie vicissitudini bancarie che si stanno venendo a creare in Italia, che forse un testa e croce è la cosa migliore per poter lavorare il nostro indice, anche se tecnicamente, ciclicamente risponde davvero molto bene. Ecco lui che abbiamo avuto la rottura della trendline, in questo momento sta tenendo comunque il livello di 19.090, vediamo domani come aprirà, si aprirà con un super gap come ultimamente sta facendo oppure no, questo è delle indicazioni un po' più precise. In realtà siamo adesso, vedete ciclicamente parlando, in una fase in cui ci potrebbe essere nuovamente il ritorno del MIB da un punto di vista temporale in una fase di rialzo che si potrebbe concludere intorno al 14 febbraio, tutto starà nel vedere se romperà o meno 19.732, quindi questo livello che sicuramente è un livello molto molto importante, colpito una, due, tre, quattro volte negli ultimi, nell'ultimo mese sostanzialmente, ha iniziato il 3 di gennaio, poi non è mai riuscito a rompere più verso l'alto. Certo che, ripeto, da un punto di vista ciclico ci dobbiamo aspettare adesso una fase di rialzo, poi successivamente una fase di ribasso. Se dovesse invece il prezzo mantenere questo canale di lateralità o rettangolo di lateralità, secondo di come preferite chiamarlo, allora chiaramente cambierebbe tutto quanto lo scenario, perché cosa potremmo fare? Potremmo abbassare assolutamente il ciclo in questa maniera e quindi aspettarci una continuazione di lateralità per poi andare nuovamente a prendere una fase di ribasso. Io se dovessi dire, adesso sarei più orientato a un long che a uno short, perché appunto ciclicamente parlando siamo in una fase in cui ci possiamo aspettare una risalita da parte del prezzo, perché ripeto, vado, allora in realtà anche ciclicamente non è chiarissimo, perché abbiamo, vedete, il primo ciclo qui, che sicuramente è un ciclo più a due tempi che ha tre tempi, qua sembra trasformarsi in un ciclo a tre tempi e la differenza è importante, perché un ciclo a tre tempi, vedete, ci dà una fase di rialzo in questo punto, un ciclo a due tempi invece ci dà una fase di grande ribasso, quindi di chiusura ciclica. Io qua devo per forza aspettare di vedere come si comporterà nei prossimi giorni, però come faccio a ovviare questo problema? Metto la sinusoide e quindi mi dà un movimento più ampio, meno preciso, utilizzo né più né meno che la mia FLD, l'FLD sostanzialmente mi dà un segnale che la uso come filtro, in questo momento ho generato un segnale a ribasso, vedete che sta per romperla nuovamente al rialzo, allora utilizzerò, aspetterò di vedere che cosa mi darà il mercato, se il mercato mi andrà a rompere adesso al rialzo l'FLD allora è ovvio che un ciclo a tre tempi e quindi andrò a cercare eventualmente condizioni rialziste, anche se ripeto sono più per andare poi ad aspettare il 14 di febbraio e cercare poi operazioni a ribasso fino ad andare a ritoccare nuovamente i limiti di 16.250. Andiamo velocissimamente a vedere USD Yen e Gold che era stato chiesto, dovrei già averlo fatto proprio bello pronto all'uso, USD, forse già addirittura messo sul Gold, non ricordo più, l'ho fatto qualche sera fa con i ragazzi del programma, è questo, USD, no, l'ho ammasso col CATCHF, andiamo a metterlo col Gold, così vediamo subito come siamo messi, solo un attimo che carichi, ho già caricato, allora tolgo un attimo l'FLD che ho messo anche qua, in questo momento è evidente che, a parte che non sono correlati ma sono scorrelati, quindi sono assolutamente opposti uno all'altro, sono, conferma, conferma la decorrelazione assolutamente che c'è tra USD Yen e il Gold, più che altro tra il dollaro chiaramente e il Gold, siamo guardati altra sera, non capisco cosa vuoi dire Alessandro, quindi dicevo, qui non saprei che dire, da un punto di vista ciclico, USD Yen l'abbiamo visto, l'abbiamo visto prima, si è incantato tutto, come siamo posizionati, siamo adesso in questa fase di chiusura ciclica, però quanto riguarda USD Yen un po' su tutti anche i cicli inferiori, però abbiamo il Gold che ovviamente è in una fase di rialzo, come giusto che sia, perché sempre funziona in questa maniera, si può puntare quando sostanzialmente sono correlati a una loro magari decorrelazione, spero di averti dato una risposta alla tua domanda. Se non ci sono altre domande ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento domani mattina alle 9 come sempre puntuali per l'analisi intraday, quindi per quanto riguarda l'operatività di domani, sempre da un punto di vista dell'analisi ciclica e da un punto di vista ovviamente dell'analisi tecnica. Non vedo altre domande, quindi vi saluto, vi auguro una buona notte e una felice settimana, spero, profittevole di trading. Ciao a tutti quanti, buona serata.